I furbetti dell'Etruria Federico Fubini e Fiorenza Sarzanini per Il Corriere della Sera. Ville, appartamenti, vigneti, negozi. Ma anche rimesse, stalli, pascoli. E' il tesoro dei manager accusati di aver spolpato Banca Etruria. . Un lungo elenco di beni di consiglieri di amministrazione, sindaci e revisori citati in giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma da Giuseppe Santoni, il liquidatore che ha chiesto e ottenuto lo stato d'insolvenza dell'Istituto di Credito Aretino. . Il commissario quantifica in 520 milioni di euro il danno subito da risparmiatori e creditori. Ma alcuni dirigenti avrebbero già messo in piedi strutture patrimoniali per provare a proteggersi dall'azione di responsabilità. . Il fondo di Bernie e il mutuo di Boschi. . Tra loro l'ex vicepresidente Alfredo Bernie e l'ex direttore generale Luca Bronchi. . Mentre l'altro ex vicepresidente per Luigi Boschi, padre del sottosegretario Maria Elena, non sembra aver preso particolari misure difensive. . . Boschi, che ha numerose altre proprietà, ha comunque acceso un mutuo da 130 mila euro con Monte dei Paschi, nell'aprile 2016, presentando come ipoteca un immobile valutato 260 mila euro, affare concluso quando era già stato multato da Consob proprio per il suo ruolo in Etruria. . . . Altri amministratori avrebbero invece pianificato curiose operazioni di vendita che durano decenni, transazioni creative che sembrano fatte apposta per sfuggire ai controlli. . 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 aziende con appalti in tutto il mondo. La compravendita del commercialista. Particolare è il caso Luciano Nataloni, commercialista fiorentino finito sotto inchiesta per aver ottenuto fidi in conflitto di interessi, sedeva in consiglio dell'Etruria e allo stesso tempo godeva di generose linee di credito della banca. Nataloni è al centro di una curiosa vicenda che si snoda fra il 1981 e il marzo 2015. È infatti allora, quattro mesi dopo il fallimento di Banca Etruria, che il commercialista è oggetto di una domanda giudiziale di adempimento dopo 34 anni. Nataloni. Per quanto riguarda l'ex presidente Lorenzo Rosi, sedeva al vertice dell'ultimo cd a prima del commissariamento deciso da Banca Italia, andranno analizzate alcune permute di beni fra Arezzo e Grosseto. Lo schermo imperfetto è la giustizia. Con il caso dell'Etruria, come in quello delle banche venete, il ruolo dei fondi patrimoniali diventa centrale. Un fondo patrimoniale è un trust che un titolare può cointestare alla moglie e ai figli minorenni, pur conservandone la disponibilità. Strutture del genere sono usate in tutto il mondo per proteggere i patrimoni degli amministratori. In Italia la legge permette comunque di aggredire sia immobili intestati a terzi che fondi patrimoniali di cui siano con proprietari i familiari di una persona oggetto di un'azione di responsabilità. Quegli atti non proteggono i beni in maniera impermeabile perché sono revocabili, spiega l'avvocato Antonella Lillo, uno dei maggiori esperti in diritto bancario in Italia. Eppure proprio i fondi patrimoniali producono un effetto quasi altrettanto prezioso, visto il ritmo della giustizia italiana, fanno guadagnare tempo. Per scardinare un fondo patrimoniale servono almeno sei mesi, ricorda Lillo, ma dopo gli appelli possono passare anche più di quattro anni. A maggior ragione è decisivo il momento in cui quei fondi vengono creati. L'ex amministratore di una banca fallita che lo fa molti anni dopo il matrimonio o la nascita dei figli solleva già il sospetto che stia compiendo un atto che crea un danno ai creditori. Difficile per lui proteggersi davvero in quel modo. Ciao!